puoi sceglierlo per conoscere nuovi amici puoi sceglierlo per scoprire quanto vali puoi sceglierlo per iniziare ad essere indipendente puoi sceglierlo perché la cosa giusta o per provare a immaginare come sarai da grande puoi sceglierlo per tanti motivi ed è una scelta che cambia la vita tua e degli altri servizio civile universale scopri il bando 2019 su scelgoliserviziocivile.gov.it